E' stato uno, grazie. E allora, questo brano... Lo facciamo a quizze. A quizze. No, se ti permetti Pino, questo brano... Io lo voglio dedicare ad una persona. Ah, va bene. Lo posso dedicare ad una persona. Ci fai direbbe. Voglio dedicare a questa splendida ragazza, Lucy. Tutto per te. Chi è luce? Chi è luce? Chi è luce? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.